Spider-Man una squadra di eroi Spider-Man e i Sinistri Sei Spider-Man ha catturato il rapinatore, ma il criminale, prima di essere ammanettato, gli ha spruzzato addosso una strana sostanza. Intanto, in una base segreta, si sono radunati i Sinistri Sei, i più acerrimi nemici di Spider-Man, Kraven, Beetle, Electro, Lizard, Rino e il Dottor Octopus. Ho un piano per distruggere Spider-Man, annuncia il Dottor Octopus. Il rapinatore gli ha spruzzato una sostanza con dei micro-robot. Ora può essere intercettato in ogni momento. Quella sera, il senso di ragno di Spider-Man pizzica. Poco dopo, una freccia gli si conficca a pochi centimetri. Kraven lo sta attaccando, ma Spider-Man, approfittando di un momento di distrazione, lo cattura nella sua ragnatela. Purtroppo le sorprese non sono finite. Poco dopo, Beetle lancia due dei suoi potenti razzi. Spider-Man scansa i colpi, ma si trova di fronte Lizard. State giocando da chiappa all'arrampicamuri? Chiede sarcastico. No, giochiamo a distruggi Spider-Man, grugnisce Lizard. Per far perdere le sue tracce, Spider-Man si toglie il costume e, mentre si dirige verso casa, Peter si imbatte in Rino. Hai visto Spider-Man? Domanda il criminale. A casa, Peter osserva al microscopio il suo costume. Micro-robot! Ecco come hanno fatto a trovarmi! Esclama. Poi ha un'idea. Mentre Octopus osserva i movimenti di Spider-Man dal monitor, l'eroe si volta verso di lui ed esclama. Puoi dire addio ai tuoi amici. Poi si spruzza uno spray che anniente i micro-robot e interrompe il collegamento. I sinistri sei sono sotto shock, ma non Octopus. Non finisce qui, grida. Presto Spider-Man sarà nostro. E' stata una giornata faticosa per Spider-Man e i sinistri sei sono già pronti ad attaccarlo. L'eroe non può sconfiggerli da solo. Forse anche Spider-Man ha bisogno di una squadra. Fine. Spider-Man e i sensazionali sei Sui tetti di New York, Spider-Man sta affrontando il dottor Octopus. Dove sono i tuoi amici? domanda l'eroe. Sono contento che tu me l'abbia chiesto, risponde Octopus. Subito dopo, Lizard e Beetle compaiono sulla scena. Spider-Man viene colpito e sta per precipitare, ma riesce a salvarsi facendosi scudo con la sua ragnatela. Il colpo però mette fuori uso il suo braccio sinistro. Speravo che la caccia fosse più divertente, grida Kraven, che nel frattempo ha raggiunto i suoi sinistri amici. Spider-Man è in difficoltà, ma quando tutto sembra perduto... Hey Spider-Man, tutto ok? chiede una voce femminile. L'arrampica muri si volta e vede Miss Marvel. La ragazza mette in mostra i suoi superpoteri. Con il suo braccio allungabile afferra Spider-Man e lo mette in salvo. Ho bisogno del tuo aiuto contro i sinistri sei, chiede Spider-Man, ma prima che Miss Marvel possa rispondere, una scarica elettrica colpisce il tetto. Electro, grida Spider-Man. Per fortuna Miss Marvel sferra un pugno contro la torre idrica alle spalle di Electro e manda il nemico in corto circuito. A un tratto si sente un rumore assordante. Boom, boom, boom! Che cos'è? chiede Miss Marvel. È Rino, grida Falcon, che sta arrivando in volo. Rino non si dà per vinto. Le mie zampe sono fatte per schiacciare i ragni, urla. Perché non le formiche? esclama Ant-Man, lanciando contro il nemico il suo esercito di insetti. Grazie amico, esclama Spider-Man. Purtroppo gli eroi sono circondati. Pensate di sconfiggerci in quattro? Tuona Dottor Octopus. Veramente siamo in cinque, esclama Vedova Nera, giunta sul posto. Anzi, in sei, continua Vedova Nera. Hulk, il gigante verde, si è unito al gruppo. Ora sì che ci divertiamo, esclama Spider-Man. Poi afferra i tentacoli del Dottor Octopus, mettendoli fuori uso. È finita, grida l'eroe. Spider-Man e i suoi super amici hanno sconfitto i sinistri sei. Per la banda di super criminali non c'è più via di scampo. Senza di voi non ce l'avrei mai fatta, esclama contento Spider-Man. Beh, cosa ti aspettavi dai sensazionali sei? Ribatte Miss Marvel. Ora Spider-Man non è più solo. Ha una squadra di eroi. Fine. çar Lana tää. Fine. alisten. Fine. Right. §e�� standpointone. Fine.